e beh a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su un nuovo video sul mio telefono scusatemi per questo raffreddorio ma lasciamo stare allora ragazzi oggi faremo un'app ragazzi che questa qui mi cp e master questa qua con i piccoli di minecraft perché ragazzi in pratica questa app serve per avere tutto su minecraft mod texture aspettate vediamo se ve la faccio vedere come potete vedere ci sono mappe skin texture seed mod ragazzi c'è di tutto vedete vedete tutto per android quindi ragazzi sarà una cosa molto bella anche se volete giocare con gli amici che ne so non sembra i stessi mondi ma volete prendere un mondo un mondo diverso una mappa diversa comunque ragazzi questa è facilmente trovabile su play store mi cp e master sarà questa ragazzi non sarà disponibile per tutti i telefoni infatti ragazzi di tablet non ci sarà mi pare comunque ragazzi l'app è questa support vabbè qua dice quando supporto vedete ragazzi vediamo ve la farò vedere direttamente dentro il gioco vabbè ragazzi come potete vedere sono appena entrato su minecraft con questa app già ragazzi io ho stellato molte mod e farò vedere adesso ragazzi la prima mod in pratica è che se noi prendiamo della terra andando ho messo anche una nuova texture come potete vedere così prendo della terra e poi torno in survival ragazzi aspettate prima di tornare in survival devo fare un'altra cosa prendiamo prendiamo il tavolo da lavoro prendiamo il tavolo da lavoro come potete vedere ragazzi ci sono un un sacco di cose vabbè quindi dobbiamo tornare qua su game a fare survivor poi qua vabbè ragazzi con questa texture non capisco più niente pietra banco da lavoro ecco come potete vedere ragazzi tramite della terra noi con la terra possiamo fare diamanti un blocco di terra può diventare un diamante quindi ragazzi potete avere diamanti all'infinito poi la seconda mod che ho è quella lì del trampolino elastico fatto con la spugna vediamo adesso se la troviamo allora mi pare che sia qua spugna 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 va bene ragazzi ci vediamo appena ho trovato questa spugna va bene ragazzi ho trovato la spugna comunque infatti assomiglia un poco anche a un sponge va bene se noi ci saltiamo di sopra trampolino è un'altra mod potete vedere ragazzi con questa app potete fare un sacco di cose quindi è molto molto utile comunque per questo video è tutto ragazzi spero che vi sia stato utile anche per chi come molti dei miei amici mi chiedevano come fare e mettere delle mod per telefono comunque niente ragazzi per questo video è tutto e niente lasciate un bel like passate dalla pagina di facebook commentate e condividete anche per farlo sapere ai vostri amici e niente bella grazie a tutti qui qui a qui a qui Grazie.